Ciao Luca, come stai? Bene, dai, bene, molto bene oggi qua con voi. Come stai trovando l'evento? Ma dai, guarda, molto molto soddisfatto, comunque Andrea è molto in gamba, è molto una persona semplice che riesce a farsi comprendere da tutti. Ci parli un po' di te? Ma allora, io sono un giovane neolaureato e in pratica adesso sto studiando molto il trading, sto studiando per investimenti e in generale ho una passione per la finanza e diciamo che qui siamo nel posto giusto. Lo consiglieresti ai tuoi amici questo evento? Sicuramente, sicuramente sì, al 100%.